Non lo si crea, non lo si distrugge, spaventano il rosio, tutto l'olio rosio. Spegnere i cellulari. Spegnere i cellulari. Una novità traumatica per l'Italia a livello politico, a livello militare e a livello di sentimenti. Una parola drammatica risuona in tutto il paese. Invasione. La confusione e il panico si diffondono ovunque. La confusione e il panico si diffondono ovunque. Gli argomenti e alcuni cercatori, l'opeternico di Milano, l'usita a tale di Milano deve stare di suo, non di qualche. L'autore sono unito di settembre. Il panico si diffondono. Grazie. 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 Il progetto è volo corabolico. Il progetto è in giro, il progetto è diffondo. Un po' d'auto senza pilota, siamo stati a bordo di una macchina che si guida sola. Amici in mito ci muoveremo sottomobili, stessi ai autisti, che orientassimo a usci e a girare, conoscendo gli ostacoli, i pedoni, con un nuovo grado di precisione. Scopriremo quali sfide di affrontare l'auto per condividere la strada con le persone che sguadrano la nuova fronteira robotica autonoma. Grazie. Ti prendo un po', eh? Eravate anche a Parma, non ho sbaglio, no? Parma, non siamo noi quelli di Parma. Quelli di Parma, per i concorrenti. Ah, ho capito, ho capito. Eh, vabbè. La concorrenza può fare anche bene, eh? Ma almeno i bottoli li prende sotto o no? Ah, i gnollini, i piccoletti. Quegli superflui. Quelli che spucano da dietro l'auto. Grazie. Prego. E' un po' di quello che mi hanno partecipato. Secondo me è una tassetta. No. 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 Questa è la tua principale testate che lavorano con tutti i giornalisti, non so vada a chiedere Allora, vai la? Arrivederci Allora, vai la? Allora, vai la? Allora, questo cambiamento è un mondo, non cambiare Ho già fatto la ricerca di montanelli, di arindri montanelli, di scienza e tecnologia Allora, vai la? Allora, vai la? Allora, vai la? Il canio Allora, vai la? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.